Maurizio Vaino, giocatore del Chaminade, finale di stagione più atroce, non poteva esserci un... Tu poi però comunque hai dato il tuo contributo doppietta alla fine inutile, però comunque hai fatto il tuo. Sì, io penso che l'episodio finale non l'ho capito, dico la verità. Io penso che ci devono essere delle regole molto più ferre, cioè se suona una sirena è finita la partita. Non si può fare a scapito dell'albitro dove un primo albitro ha dato fine partita, il secondo albitro ha dato fine partita e il cronometrista, che non c'entra nulla in tutto ciò, dà gol. Io penso che comunque c'è bisogno di una regola, poi al di là del gol c'è o non c'è, non posso essere a giudicarlo perché non l'ho visto, ti dico la verità, ero a festeggiare. Però io la sirena l'ho sentita e ancora non uscivo dalla panchina, mi sembra un po' difficile che sia stato gol, però non so cosa dire. Tornando alla partita, è stata una partita dura, si sapeva, l'età beta se l'è giocata a viso aperto, voi lo sapevate. Tirata fino alla fine, poi arrivate, vabbè, la sconvittata nell'ultimo secondo. Questa partita però forse vi lascia tanto rammare qui in bocca. Sì, sì, io penso che noi abbiamo peccato fisicamente. Eravamo a tre persone infortunate, il capitano Lucoriente che ci dà una grande mano sia sul campo che emotivo. Purtroppo ha avuto l'infortunio giovedì in allenamento e quindi siamo stati con gli uomini contati, io con fastidi, Sanchez con fastidi. Abbiamo già un po' acciaccati. Ci dispiace perché era la nostra portata. Rimane comunque il fatto che avete disputato un'ottima stagione? Ma guarda, io penso che non sia comunque un'ottima stagione. Siamo una squadra... Vengava la cileggina. Eh sì, noi siamo una squadra che potevamo andare in alto. Invece anche i quinti non ci stava bene per quanto riguarda quello che penso io. Poi per come è andata la stagione forse è stato anche un miracolo essere qui a giocarci l'ultima parte del campionato, i play-off. Però per me non è così, dobbiamo andare ai play-off. È stato un fallimento.